Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del Tg Pomeriggio con un'ultima ora arrivata da poco in redazione. Parliamo di attualità, questa mattina intorno alle 8.45 durante i lavori di rifacimento del percorso pedonale e della pista ciclabile del parco Spinaverde di Miramare, lato via Pontresina, si è verificata la rottura di una conduttura a media pressione del gas metano. Vediamo sul sito, sulla nostra pagina di newsrimine.it alcune foto che riguardano proprio i momenti di questa mattina perché subito dalla conduttura rotta è scaturito un getto accompagnato da un forte rumore e dalla tipica puzza del metano. Sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco insieme alla polizia locale e ai carabinieri che hanno insieme ai tecnici di Adrigas chiuso il flusso nelle tubature. In corso i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino. Attualmente sono ancora numerose le utenze prive di gas. Passiamo ora alla cronaca. È finita nel sangue una rapina avvenuta nella tarda serata di sabato 26 ottobre in Viale Regina Margherita Rimini. Erano le 23.30 quando due malviventi, una 36enne transessuale peruviana e un 23enne italiano, entrambi residenti a Rimini, sono entrati in azione in un kebab che si trova al civico 101 a Marebello, mirando ai soldi della cassa. I due erano armati di bastoni e di coltelli. Il titolare del locale, un giovane pakistano, ha cercato di opporsi e nel tentativo di proteggere l'incasso è stato raggiunto da diverse coltellate ad una spalla, ma anche da fendenti con una pinza che si trovava sul bancone. I colpi sono stati inferti dal 23enne, mentre la transessuale, stando al racconto dell'aggredito, lo afferrava al collo tentando di infilargli le dita negli occhi. L'aggressione poi proseguita sulle marciapiede, proprio davanti all'attività in prossimità della fermata dell'autobus. La vittima, dopo gli altri colpi, è rimasta ferita a terra, mentre i due si sono dati ad una precipitosa fuga verso Via Nervi, portando con sé la cassa che conteneva poco più di 100 euro. Nel giro di pochi minuti l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato con codice di massima gravità in ospedale, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Nel frattempo le volanti della Polizia di Stato hanno individuato entrambi gli aggressori dopo una breve caccia all'uomo. Continuiamo con la cronaca. È accusato di spaccio il ventenne albanese fermato dai carabinieri di Rimini impegnati nei controlli serrati nella zona sempre di Miramare con sei pattuglie. Il ragazzo è stato sorpreso cedere una dose di stupefacente ad un acquirente e segnalato alla prefettura come consumatore. Aveva con sé un involucro con 47 dosi di cocaina, circa 30 grammi totali e 610 euro, considerati proventi di spaccio. È stato tratto in arresto e nel rito direttissimo è stato disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune capoluogo. Ora cambiamo argomento, parliamo di una bella iniziativa dell'Associazione Crisalide Bici in Rosa, una biciclettata dedicata alla salute. Rinviata la scorsa settimana a causa del meteo avverso, si è svolta sabato scorso. Vediamo. Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e proprio in un sabato di ottobre l'Associazione Crisalide di Rimini ha organizzato in collaborazione con il patrocinio di Europa Donna Italia Bici in Rosa, una biciclettata di salute di 10 chilometri su percorso cittadino con partenza dall'Arco d'Augusto dove per l'occasione è stato allestito un gazebo, ristoro in zona Rimini Terme e arriva al punto di partenza. Questo piccolo evento che abbiamo organizzato serve ad attirare l'attenzione sul problema del tumore al seno, un problema che colpisce veramente un numero elevato di donne, diciamo che più o meno è una su otto e in un anno in Italia si hanno all'incirca 55 mila nuovi casi, quindi nuove diagnosi e soprattutto noi abbiamo la percezione che l'incidenza del tumore colpisca fasce di donne in giovane età, sicuramente molto più di un tempo. Questa manifestazione vuole essere un monito a fare diagnosi precoce, cioè nel caso del tumore al seno possiamo fare prevenzione nel senso di fare corretti stili di vita e l'attività motoria ovviamente è uno di questi, ma soprattutto fare i controlli, fino magari da giovani imparare a fare l'autoesame, la palpazione e fare i controlli anche in un tempo precedente a quello che è lo screening, perché da noi si viene chiamata per la prima mammografia a 45 anni. Lo facciamo anche per fare il punto della situazione sul tumore al seno metastatico, la cui giornata nazionale il 13 ottobre, proprio come adesso è stata sancita anche dal Senato questa giornata, proprio perché il tumore al seno metastatico necessita di percorsi ulteriormente specifici e qualificati. Per queste donne ci vogliono dei percorsi che prevedano proprio cose particolari, per esempio l'accesso anche alle sperimentazioni. Un grande sostegno dal punto di vista psicologico, perché avere una malattia che comunque diventa cronica, insomma non è semplice da accettare. Passiamo adesso allo sport, parliamo di basket. Il Rimini torna a vincere un derby con Forlì, evento che non accadeva dal campionato 2010-2011. In un Flaminio sold out e vestito di rosso, avvio shock dei biancorossi che escono nella seconda parte di gara, concedendo all'1 euro 26 punti in 20 minuti e imbucando ben 11 triple. Vediamo il servizio. E' il derby più sentito, Rimini contro Forlì, distanziata in classifica di due sole lunghezze, con Riviera Banca quota 10-1 euro 8. Flaminio ancora sold out e vestito di rosso per l'evento Red Passion, in collaborazione con NTS Informatica. I primi 10 punti del derby sono di Harper, canestro da sotto, dall'arco, 2 su 2 liberi e tripla, 0 a 10, a meno 8 primi e 5 secondi. I primi due punti riminesi sono di Johnson dalla lunetta, 2 a 10. Harper continua ad imperversare tra assist e canestri e l'unieuro tocca il più 11 sul 4 a 15. Tomassini e Masciadri con due triple suonano la carica, 10 a 18. Ma sono gli ingressi di Camare Grande a cambiare l'inerzia del tempino. Cinque punti del play riportano RBR sul meno 1, prima che Pasco lo realizzi sul suono della sirena il canestro che fa chiudere il primo quarto sul 17 a 20. Nel secondo parziale partono meglio gli ospiti, a segno con il solito Harper, Parravicini e Magro, 21 a 28. Cinque punti, con annesso all'eup di Camara, riavvicinano Riviera Banca, 24 a 28. Johnson entra in partita anche in attacco, 26 a 30. Ma il protagonista è ancora Harper, che con altri nove punti, codiuvato da Gaspardo e Cincerini, fissa il più 14, 30 a 44. E sono sempre di Harper gli ultimi due punti prima dell'intervallo lungo, al quale si va con l'unieuro, avanti di 10, 37 a 47. E con Rimini, che non ha mai tirato così male da 3, 4 su 17. Al rientro inizia tutta un'altra partita. Dopo la tripla di Pollone, 38 a 50, Riviera Banca infila un 13 a 0, aperto e chiuso da Tomassini, che gli vale il primo vantaggio della partita, 51 a 50, quasi metà quarto. RBR trova il più 7 dopo un'altra perla di Tomassini e una bomba di Marini, 59 a 52. Gaspardo fissa sul 59 a 56 il punteggio del trentesimo. Harper sigla la nuova parità, 59 a 59. Ma ora in cattedra c'è il professor Johnson, che imbuca 8 punti con due triple di fila, che lo portano a chiudere con 21 punti, più 14 rimbalzi, 70 a 64. Harper non si arrende, chiude con 38 punti. Ma adesso RBR da 3 la mette che è un piacere, 11 su 15 nella seconda parte di gara. A segno Tomassini, 5 su 5 dall'arco, Marini è grande. La tripla di Pollone sulla sirena sancisce l'81-73 finale, con l'unieuro che dopo l'intervallo ha segnato appena 26 punti. Rimini non vinceva un derby con Forlì dalla stagione 2010-2011. Il Flaminio può far festa. E ora sentiamo il commento nel dopogara del coach dell'Agnello. Prima di tutto un ambiente fantastico e siamo felici per come è andata la partita, perché abbiamo sofferto molto, alla fine credo abbiamo meritato di vincere e abbiamo gioito tutti insieme in un palazzetto sold out e quindi siamo strafelici. Abbiamo giocato contro una squadra quadratissima e non potrei fare complimento più grande e abbiamo avuto delle grandi difficoltà, soprattutto nel secondo quarto, dal punto di vista difensivo nostro. Per la verità, le grandi difficoltà sono state acuite dalla giornata mostro che ha avuto Harper con noi, contro di noi, che segnava in tutti i modi e chiunque lo marcasse segnava. Avremmo potuto inventarci chissà quale mossa per cercare di agginarlo, però abbiamo preferito rimanere nelle nostre cose, che essendo 9 ottobre cominciamo appena appena a conoscere e alla fine questa decisione ha pagato, perché Forlì il secondo tempo, correggetemi se sbaglio, ha fatto 26-28 punti di squadra. Noi siamo riusciti a fare i soliti ottantina di punti che facciamo sempre. Diciamo che abbiamo giocato un tempo per uno, mettiamola così, però credo che onestamente alla fine abbiamo meritato di vincere una partita contro un avversario tostissimo. E siamo arrivati in chiusura con la nostra edizione del pomeriggio del telegiornale. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo che trovate tutte le news in tempo reale su newsrimini.it, mentre l'informazione in tv torna questa sera alle 19.15. Buona giornata.